Abbiamo dei grandi personaggi a livello internazionale, tra i quali abbiamo Zico, Caca Calazze, che è attualmente il sindaco di Tbilisi, Franco Causio, Antonello Riva, Andrea Gianni, poi abbiamo Chiara Fontanesi, la pluricampionessa mondiale di motocross e abbiamo anche Emanuele Bortuzzo, che è il ragazzo che purtroppo ha avuto l'incidente a Roma, dove gli hanno sparato e immobilizzato. Quindi vi invito tutti ad arrivare a Castiglione Fiorentino per questa serata fantastica, che sarà oltretutto in diretta su Sport Italia il 4 luglio alle 20.30. È il settimo anno consecutivo che Menarini decide di associare il suo nome a un'iniziativa meravigliosa, che è il premio Fair Play Menarini, in un momento in cui c'è tanto bisogno di Fair Play, non solo nello sport, dove i valori del Fair Play sono sicuramente unici e essenziali per raggiungere in maniera corretta dei risultati, ma per una società civile che ha sempre più bisogno di questi valori, quindi il nostro intento è di fare del premio Fair Play Menarini la vera cassa mediatica di diffusione dei valori del Fair Play. Grazie a tutti!